buongiorno amiche buongiorno amici benvenuti e bentornati sul mio canale in questo video vi voglio mostrare quello che ho trovato in edicola ieri mattina avevo visto nel canale di marcella che tirava fuori dalle riviste alcuni prodotti in omaggio acquistando la rivista quindi avevi il prodotto all'interno in omaggio e questa cosa mi ha molto incuriosita e sono andata in edicola a vedere se era rimasto qualcosa e devo dire che sono stata fortunata perché ho trovato ben tre giornali con l'omaggio e adesso ve li mostro allora il primo è star bene star bene con solo due euro contiene il latte solare della leocrema vediamo insieme com'è ecco qui il latte solare leocrema è un latte protettivo idratante tripla protezione con fattore di protezione 20 per me è un pochino basso e perché io all'inizio utilizzo la crema 50 e questo lo utilizzerò verso la fine gli ultimi giorni di esposizione e ha un effetto invisibile resistente all'acqua una protezione media mi sembra un buon prodotto e vi farò sapere come mi sono trovata poi un'altra rivista è grazia che contiene un uno smalto della debora effetto gel a soli due euro vediamo com'è lo smalto sono rimasti solo due colori giallo e rosa e ho scelto rosa perché giallo proprio non mi piaceva eccolo qui smalto effetto gel colore brillante maxi pennello io come vedete la ricostruzione sulle dita delle mani lo sul dita dei piedi carino mi piace vediamo questo a 227 non so quale sia comunque carino vediamo questo maxi pennello mi sembra bello me lo metterò sui piedi poi altro giornale è silhouette all'interno di silhouette con 2 euro e 50 c'è la crema della elan che è questo che avevo visto sul canale di marcella e mi aveva molto incuriosito è una crema ritmo modellante tonificante con alghe manine fucus e laminaria effetto ghiaccio al mentolo sì quindi forse è una crema di quelle che dà sensazione di freschezza alle gambe e contiene centella asiatica sambuco ulmaria caffeina noce di cola di cola tè verde e vabbè la proveremo a vedere com'è oltre a siluette qua alle alghe all'elan c'è un'altra rivista dietro vediamo che rivista perché è messa così buongiorno buongiorno è finito il film allora dietro c'è idee in più che sono tendenze casa cucina bellezza e benessere quindi ci sono un po' di idee un altro magazine vabbè avrò da leggere sicuramente e una cosa che vi volevo mostrare che ho comprato ne parliamo dopo e no ci sono i compiti da finire tu fratello no allora ho comprato mio figlio da OVS questa bella canottiera e l'ho pagata 9,99 euro carina con un bel tessuto traspirante di quelli che non fanno sudare cioè è grande a me però mio figlio sta crescendo parecchio va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vado dai miei figli a risolvere il problema del tablet e dei compiti vita quotidiana benvenuti nella mia vita quotidiana ci vediamo al prossimo video ciao ciao